Le prigioni segrete della CIA sono flimiz anche per chi le ospita. Washington non fornirà alcuna informazione al riguardo alla procura lituana, che dal 2014 sta indagando sul trasferimento illegale di detenuti nel paese. L'inchiesta continuerà nonostante tutte le difficoltà del caso, fanno sapere i magistrati. Ma la risposta degli USA potrebbe aver sollevato dalle sue inquietudini più di un politico a Vilnius. Nel luglio scorso, infatti, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva criticato la lentezza delle indagini, chiedendo all'autorità del paese di declassificare il fascicolo sul carcere segreto della CIA in Lituania e di punire i funzionari governativi coinvolti nella detenzione e nella tortura dei prigionieri. Il Parlamento europeo, in uno dei suoi momenti più audaci, aveva già approvato nel 2008 una risoluzione di condanna delle carceri segrete della CIA in Europa. Tuttavia, i paesi inquisiti non furono minimamente puniti. Tra essi c'erano Lituania e Polonia. L'Alta Corte d'Inghilterra e Galles ha rigettato il ricorso contro Google di un gruppo di possessori di iPhone, riunitisi nell'organizzazione Google UOWAS. Google, ci devi qualcosa. Avevano accusato il colosso statunitense di aver raccolto illegalmente, per scopi pubblicitari, i dati sensibili di oltre 4 milioni di utenti britannici. Un comportamento che il giudice Mark Warby ha definito indubbiamente scorretto ed illegale, ma vista la mancanza di prove sui danni concreti subiti dagli utenti e vista l'impossibilità di stimare in modo affidabile il numero di persone coinvolte, la class action da 3 miliardi di sterline è stata bloccata. In Italia, invece, ci sta provando Altro Consumo, che assieme alle associazioni di consumatori di Belgio, Spagna e Portogallo, ha deciso di avviare una class action contro Facebook. Tenendo conto dei benefici commerciali, che ha ottenuto violando la protezione dei dati e le normative a tutela dei consumatori, scrive Altro Consumo, chiederemo per tutti gli utenti iscritti al social network un risarcimento minimo di 200 euro. L'adesione è aperta e gratuita. Sabato scorso, con il 20% dei consensi, i socialdemocratici del Partito Armonia si sono aggiudicati le legislative in Lettonia. Sono tutti nati di recente e dicono di voler difendere gli interessi nazionali della Lettonia i partiti che occupano il secondo, terzo e quarto posto. A chi appartiene lo Stato, dell'attore Artus Kaiminsch, che qualcuno ha paragonato a Donald Trump, il nuovo partito conservatore e il liberale per lo sviluppo. Si tratta dunque di una coccente sconfitta per le vecchie forze pro-europee della Lettonia e di un altro grattacapo per il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Visto che Armonia vanta il sostegno dei cittadini russofoni della Lettonia, non ha perso l'occasione per avvisare che nulla fermerà la Russia di Vladimir Putin nel suo tentativo di dividere l'Europa. Il nostro problema è la Russia, sostiene Tusk, ma sembra che gli elettori europei abbiano finalmente capito che il problema in realtà si trova più a ovest, cioè dalle parti di Bruxelles. Due aziende energetiche indiane hanno stipulato accordi con l'Iran per la fornitura di greggio nel mese di novembre. L'ho annunciato lunedì il ministro indiano del petrolio e del gas naturale Darmendra Pradhan. Entreranno in vigore il 4 dello stesso mese le misure statunitensi contro le importazioni di oro nero dall'Iran. Ancora non sappiamo se gli Stati Uniti faranno un'eccezione per noi, fa sapere il ministro indiano, ma la nostra economia ha bisogno del petrolio iraniano e per acquistarlo stiamo valutando la possibilità di sviluppare un sistema di pagamento in rupie. Inoltre, dopo il rifiuto di alcuni armatori indiani di inviare le proprie petrolieri in Iran, Nuova Delhi ha consentito la consegna di greggio in India su navi cisterna iraniane. Washington ha inserito una pillola avvelenata nel trattato USMCA con Canada e Messico. Nel caso in cui uno dei tre firmatari dovesse stringere un accordo commerciale con un'economia non di mercato, gli altri due sarebbero liberi di recedere dallo USMCA entro sei mesi e di stipulare separatamente un contratto bilaterale. Simili clausole, chiaramente dirette contro la Cina, potrebbero essere inserite stando a quanto annunciato dal segretario al commercio Wilbur Ross negli accordi futuri che gli Stati Uniti stringeranno con i loro partner. L'Unione Europea è avvisata. Pechino fa paura. Oggi, secondo paese al mondo per investimenti diretti all'estero, la Cina si appresta in ottobre a vendere un altro pacchetto di obbligazioni USA, valore 3 miliardi di dollari. Si tratta della seconda vendita in un anno.